Una delle mie passioni è nuotare in acque libere, e l'ho fatto anche qui ieri sera nel vostro magnifico mare. Ottobre, mare caldo, 5 gradi più caldo della media. Piacevolissimo naturalmente, ma anche un campanello d'allarme per il nostro pianeta. Il 2022 è stato l'anno più arido e caldo in Italia di sempre. Ed è stato anche l'anno in cui la drammatica situazione in Ucraina ci ricorda ogni giorno quanto siamo vulnerabili alla geopolitica per il nostro accesso all'energia. Quello dell'energia è un problema globale. Dobbiamo trovare una sorgente di energia che sia pulita, sicura, disponibile per tutti e compatibile con lo sviluppo sostenibile, ovvero che permetta un benessere per tutti senza mettere un'ipoteca sul futuro del nostro pianeta. Che cosa possiamo fare? Non c'è dubbio che nel futuro avremo una grande parte del nostro fabbisogno che sarà coperta dalle energie rinnovabili. E dobbiamo fare tutto in modo che la loro efficienza venga aumentata, quella dei pannelli solari, quella delle centrali eoliche a vento. Ma è anche vero che le rinnovabili da sole non ce la possono fare perché sono intrinsecamente intermittenti. Non c'è sempre il sole, non c'è sempre vento. Ci sono le stagioni, il giorno, la notte, le nuvole. Quindi l'energia che esse producono deve essere immagazzinata, deve essere stoccata da qualche parte. E lo stoccaggio dell'energia è un problema molto dispendioso, sia dal punto di vista economico che da quello ambientale. C'è bisogno di un'energia di base che aiuti, che spalleggi le rinnovabili, che fornisca energia come, dove e quando ne abbiamo bisogno. Quasi tutti i paesi hanno realizzato questa necessità. Alcuni li fanno fronte costruendo ancora centrali basate sull'energia fossile, sui combustibili fossili. Sappiamo che oggi usiamo più dell'80% di combustibili, sotto forma di combustibili fossili. Il sole li ha prodotti su decine di milioni di anni, tramite il suo irraggiamento e tramite i processi geologici sulla Terra. Noi ce li stiamo letteralmente bruciando su decine di anni. Quindi è chiaro che non possiamo continuare a usarli. Finiranno. Ma appunto l'urgenza di trovare alternative, come le rinnovabili, viene non solo dalla geopolitica, ma naturalmente dal clima. Questo bruciare che noi facciamo non fa che produrre gas a effetto sera, quindi contribuire al riscaldamento globale. Quindi questa idea dei paesi come la Germania di costruire centrali a combustibile fossile per aiutare le rinnovabili, forse non è proprio completamente sostenibile. Altri paesi come la Francia, per questa energia di base di cui abbiamo bisogno, usano l'energia nucleare convenzionale, la fissione, con i suoi pro e i suoi contro. Ci sono altre possibilità? Abbiamo alternative per avere energie che siano disponibili per tutti e senza rischi per il pianeta? Dobbiamo pensarci molto bene. Dobbiamo pensarci prima che sia troppo tardi. Allora, a pensarci prima, mi viene in mente un personaggio studiato ai tempi lontani del liceo, colui che pensa prima, Prometeo, vi ricordate di Prometeo, il titano amico dell'umanità e del progresso, che ruba il fuoco agli dèi per darlo agli uomini. Allora perché non pensiamo come Prometeo? Perché non andiamo a rubare il fuoco agli dèi per portarlo sulla terra? Cos'è il fuoco degli dèi? Il sole, le stelle. Il sole è la nostra stella e tutta l'energia ci viene direttamente o indirettamente dal sole. Circa un centinaio di anni fa abbiamo capito come funziona il sole, come funzionano tutte le stelle. Funzionano secondo il principio della fusione nucleare. Mettono insieme dei piccolissimi nuclei, delle piccolissime particelle, per formarli ancora nuclei relativamente piccoli e rilasciare dell'energia. I nuclei che formano questa reazione, che è la reazione di fusione, all'inizio sono un po' più pesanti. Si è persa della massa quando alla fine hanno fornito la reazione. Questa massa che si è persa si è trasformata in energia. Come dice Einstein, massa e energia sono la stessa cosa, sono equivalenti. A partire dall'idrogeno si forma l'elio e via via tutti gli altri elementi. È così che funzionano le stelle, ma è anche così che si è formato tutto l'universo. È il contrario dell'energia di fissione, l'energia nucleare convenzionale, che si basa solo spaccare dei nuclei grandi, complessi, radioattivi, e tramite processi di reazione a catena spaccarne ancora altri, sempre complessi, sempre radioattivi. Questa della fusione è un'energia pulita. Non ha scorie radioattive. È un'energia sicura, perché non ha processi di reazione a catena di cui si potrebbe perdere il controllo. E la densità di energia nel combustibile è gigantesca, tale per cui il combustibile, che si trova in natura e in parte lo formiamo noi stessi tramite i prodotti delle reazioni nucleari, è praticamente illimitato. Vi voglio dare un esempio. Prendiamo la mia città d'origine, Milano, un milione e mezzo di abitanti, diciamo due o tre volte Genova, uno stadio magnifico, il stadio di San Siro. Voglio alimentare la città di Milano per un anno di energia. Un anno. Oggigiorno lo faccio con combustibili fossili, diciamo del carbone. Per un anno di energia, per Milano, bisogna riempire tutto lo stadio di San Siro, fino a Terzanello compreso, 80.000 posti, fino in cima di carbone. Immaginate quanti treni devono venire a Milano ogni anno. Migliaia di treni carichi di carbone, per l'energia di un anno. Ora, non dico se, ma dico quando utilizzeremo il combustibile di fusione nucleare. Non avrò bisogno di treni, non avrò bisogno neanche di un'automobile per portarlo. Avrò bisogno semplicemente del rimorchio della mia bicicletta. L'energia sarà custodita in una sacca, per un anno, per un milione e mezzo di persone. Voi direte, fantastico, ma perché non l'abbiamo ancora? Cosa stiamo aspettando? Ci stiamo arrivando. Ci stiamo arrivando, ma non è facile fare una stella sulla Terra. Bisogna prima di tutto fare in modo che questi nuclei, che dicevo si debbono fondere, si avvicinano abbastanza l'uni agli altri. Bisogna farli scontrare ad altissima velocità, velocità disordinata a livello microscopico. E chi dice velocità disordinata microscopica dice alta temperatura. Voi pensate, uh, centinaia di gradi. No, vi sto parlando di decine, centinaia di milioni di gradi. Può esistere la materia a questa temperatura? Sì, può esistere. Ma non negli stati che abbiamo l'abitudine di conoscere tutti i giorni sulla Terra. Non nello stato solido, non nello stato liquido, neanche in quello gassoso, perché tutte le molecole, tutti gli atemi sarebbero dissolti, spaccati, divisi fra nuclei ed elettroni. Si crea una specie di zuppa di particelle cariche che hanno voglia di andare da tutte le parti che si chiama il plasma, il quarto stato della materia. Uno stato che ci sembra molto esotico, e lo è sulla Terra, ma in realtà tutto l'universo, praticamente tutto l'universo a noi noto, è in stato di plasma. E lo sono in particolare le stelle di cui noi vogliamo fare delle piccole copie. sulla Terra per tirarne l'energia, come moderni promettei, quando e dove ne abbiamo bisogno. Allora dobbiamo portare il plasma a queste temperature di milioni, decine, centinaia di milioni di gradi. E come fare? Pensiamo un po' alle nostre cucine, abbiamo dei forni a microonde, onde elettromagnetiche, potremmo usare quelle. noi abbiamo bisogno di una piccolissima quantità di materia, perché la densità di energia è enorme, quindi prendiamo una piccolissima quantità di materia, una frazione di un minuscolo cucchiaino di minestra, e lo irraggiamo con l'equivalente di migliaia di forni a microonde. Cosa succede a questa piccolissima frazione di un cucchiaino di minestra? Diventa più calda del centro del Sole, ed ha luogo le reazioni di diffusione. noi lo facciamo tutti i giorni negli nostri esperimenti. Però le stelle, in particolare il Sole, hanno un enorme vantaggio rispetto a noi, sono grandi. Essere grandi vuol dire avere una grande massa, quindi vuol dire tenere a sé, tenere insieme questo plasma che scapperebbe da tutte le parti, perché forza per la forza di gravitazione. Noi non possiamo permetterci di fare una stella sulla Terra che sia più grande della Terra stessa. Dobbiamo essere più furbi. Però anche in questo caso vediamo cosa fa la natura. e guardiamo questa immagine. C'è il Sole con il suo plasma che scappa un po' da tutte le parti, anche se la gravità cerca di tenerlo insieme, e poi c'è la Terra che sarebbe immersa in un mare di plasma e che ci brucerebbe. In realtà la Terra è protetta. Ma da che cosa è protetta? È protetta da uno scudo, da una gabbia, che è quella fatta dal suo campo magnetico. Sapete che la Terra è un campo magnetico? Naturalmente, come fosse una grande calamita, polo nord, polo sud, e questa gabbia tiene il plasma all'esterno. L'idea è fare una gabbia, ma metterci il plasma dentro, evitare che lui esca, in modo che lo possiamo tenere lì e farlo fondere, ovvero avere dell'energia pulita. La gabbia che ha avuto più successo finora si chiama Tokamak, è un nome che suona russo ed è russo, infatti, è stato inventato negli anni 50 del secolo scorso in Russia, adesso è un'idea che viene usata globalmente. ed è proprio attraverso una serie di Tokamak, di esperimenti, e grazie al fatto che, a partire dal 1958, la fusione è stata declassificata, ovvero la si fa tutti insieme, in collaborazione ed in pace, che abbiamo ottenuto una serie di progressi, una serie di risultati molto importanti. Alla fine degli anni 90 abbiamo ottenuto il record di potenza di fusione sulla Terra, da una piccola stella, in un Tokamak, nel Regno Unito, vicino a Oxford. E dico a noi, abbiamo, perché eravamo tutti noi europei insieme. Avevo la fortuna di essere nella sala di controllo e di operare l'esperimento, c'era la BBC, c'erano i media locali che registravano le nostre voci, accenti, lingue di ogni tipo, compreso probabilmente la conversazione che avevo, immagino, sul campionato di Serie A con il mio vicino ingegnere italiano. Abbiamo ulteriormente studiato questo problema, abbiamo qualche mese fa battuto il nostro stesso record e l'abbiamo fatto in condizioni ancora più vicine a quelle di un reattore. E questo fatto di aver ottenuto queste performance, questi record, l'ha convinto tutti noi del campo, ma soprattutto tutti i politici che ci sostengono, che ce la possiamo fare. È possibile costruire una stella sulla Terra, ma anche che dobbiamo farlo tutti insieme. E difatti il prossimo passo è fatto da noi tutti insieme. Quando dico noi tutti insieme, in questo caso non dico solo noi europei, ma dico praticamente più di metà del mondo. L'Europa in questo caso ha sei partner, la Russia, gli Stati Uniti d'America, la Cina, la Corea, l'India, il Giappone e la Cina. Si tratta del progetto ITER, il progetto che dimostrerà una volta per tutte la fattibilità scientifica e tecnologica della fusione sulla Terra. Produrrà dieci volte più potenza, questo piccolo plasma, questa piccola stella, di quella che noi vi inietteremo. Questi sette partner lavorano insieme, non soltanto fornendo finanziamenti e personale, ma anche fornendo proprio i componenti, i pezzi, più di un milione di pezzi nel puzzle più complicato mai messo insieme dall'essere umano. Facendo questo, ognuno dei partner, ognuno degli Stati che partecipano avranno la capacità, la tecnologia di costruire il loro proprio retrofusione. Quando funzionerà la fusione? Non sarà un'energia soggetta a ricatti di uno Stato rispetto a un altro, non sarà soggetta a colonizzazione dell'energia, sarà per tutti. È un progetto infatti nato come progetto di pace alla fine della guerra fredda in discussioni fra Reagan e Gorbachev. ITER però è ancora un esperimento scientifico. Questo plasma, questa piccola stella, tutti i sistemi che lo circondano, dobbiamo farli funzionare in maniera affidabile, non soltanto per un esperimento scientifico. dobbiamo farli funzionare per tanti anni, per decenni. Per fare questo abbiamo ancora alcune sfide scientifiche e tecnologiche da affrontare e da vincere. Dobbiamo controllare ancora meglio questo plasma che scappa da tutte le parti, i suoi avvenimenti un pochino violenti quando c'è una specie di eruzione. Dobbiamo fare dei magneti ancora più efficienti. Pensate che questi magneti sono mantenuti praticamente allo zero assoluto, a qualche centimetro dal posto più caldo dell'universo. Il posto più freddo dell'universo ha qualche centimetro dal posto più caldo dell'universo. E noi lo facciamo in laboratorio. I materiali che contengono questa stella, la bottiglia dentro la quale questa stella è contenuta, immaginate che devono sottoporsi a carichi termici giganteschi. L'unica cosa che mi viene in mente come confronto è quella con un veicolo spaziale che deve partire dalla Terra e andare nello spazio. I suoi motori sono sottoposti a dei carichi termici giganteschi come quelli cui dobbiamo far fronte a noi nel reattore. Solo che questo dura qualche decina di secondi, qualche minuto per il razzo. Per noi deve durare decenni. Ognuno di questi problemi sta trovando una soluzione scientifica e tecnologica e quello che resta da fare è di metterli tutti insieme. Ed è l'ultima tappa che ci rimane prima di aver vinto la sfida della fusione. Per metterli tutti insieme noi stiamo già lavorando al progetto che in parte in parallelo a ITER in parte seguirà ITER e che noi in Europa chiamiamo DEMO per reattore di dimostrazione. DEMO dimostrerà che è possibile far funzionare la stella non solo come esperimento scientifico che è interessantissimo ma non interessa alla società per le applicazioni per far funzionare città ed ospedali ma come centrale elettrica di produzione di energia che produca molta più energia elettrica di quella che consuma e lo faccia in maniera affidabile per decenni ed ha un costo che sia competitivo. L'orizzonte temporale di DEMO visto da noi europei è a metà di questo secolo anche se io sono assolutamente convinto che riusciremo ad accelerare perché l'urgenza di avere una fonte di energia pulita è enorme ed è percepita da tutti e la nostra capacità di assorbire innovazione intorno a noi è in continuo miglioramento. Sono tempi lunghi ma sono tempi necessari è come costruire una cattedrale un processo che va da generazione a generazione transgenerazionale. Mai come oggi però io sono convinto che il sogno di realizzare una stella sulla terra si avvererà. ITER è già quasi costruito siamo già sulla buona strada per DEMO il sogno si sta avverando. Alla fine di questo percorso avremo vinto una sfida epocale una sfida epocale per il futuro energetico del nostro pianeta ma anche per il futuro di tutti noi insieme. Una sfida scientifica tecnologica ma anche una sfida umana che sarà stata affrontata e vinta perché siamo stati capaci di farla insieme in collaborazione coesi ed in pace. Non uno non dieci non cento mille promette ai moderni che lavorano per le generazioni a venire e che hanno adottato il motto che i natimi merigani ripetono sempre cioè che noi non abbiamo ereditato il nostro pianeta dei nostri antenati noi lo abbiamo appreso a prestito dai nostri figli. Grazie. Grazie. Applausi Grazie. Applausi Grazie.